Prenderanno il via sabato i saldi estivi in Liguria così come in tutte le regioni italiane tranne le Marche dove il via alle occasioni sarà soltanto il 7 luglio e la provincia di Trento dove ogni commerciante fa da sé. I saldi così come disposto dalla regione proseguiranno fino a ferragosto per una durata complessiva di 45 giorni. I commercianti che intendono aderire ai saldi dovranno indicarlo almeno tre giorni prima con cartelli ben visibili nelle vetrine. Anche i prezzi dovranno essere chiari con l'indicazione del prezzo prima e dopo il saldo e la percentuale di sconto applicata. Inoltre i prodotti non in saldo dovranno essere ben separati da quelli oggetto della promozione. Ma nonostante saldi, sconti e promozioni, a Imperia sono sempre di più i negozianti che decidono di abbassare la saracinesca in modo definitivo. È una vera e propria moria e nemmeno quelli che potrebbero essere considerati come pensionamenti vedono il subentro di nuove generazioni. Via dell'ospedale è forse il simbolo più netto e pesante della crisi d'Imperia. Nell'arco di pochi mesi hanno chiuso diversi esercizi commerciali, alcuni dei quali potevano essere considerati storici. E ora si appresta ad abbassare per l'ultima volta la saracinesca anche una bottega sartoriale che aveva aperto soltanto pochi anni fa. Il motivo? Quello di sempre. Troppo poche le entrate e troppe le spese a cominciare dagli affitti dei locali. Stesso discorso in via Bonfante e in molte altre zone della città.